L'Europa, l'Europa occidentale, conosce in questo decennio finalmente la vittoria piena della democrazia, perché i tre grandi paesi, Portogallo, Spagna e Grecia, dove non c'era, tornano alla democrazia e questo è qualcosa di non poco conto. Ci sono degli studi molto accurati di fondazioni e organismi che fanno di mestiere questa analisi dei miglioramenti o peggioramenti dei diritti politici, dei diritti civili, eccetera, che per quello che riguarda gli anni 70 hanno visto che la situazione dei diritti politici è stata nel corso del decennio, quindi poi naturalmente se uno prende solo metà decennio le cose possono essere diverse, vede migliorare la situazione in 28 paesi ma peggiorarla in 24 e quella delle libertà civili le vede migliorare in 24 e peggiorare in 30. Quindi paradossalmente, mentre noi diciamo, ah ecco finalmente l'Europa conosce la sua piena democrazia, non a caso abbia ricordato che tutto il continente latinoamericano diventa una dittatura e quindi c'è un peggioramento invece, complessivamente, rispetto agli anni 60 soprattutto. Però credo che il fatto che in questo decennio che avvenga la fine completa del colonialismo sia qualcosa che sia di un'estrema importanza, anche da un punto di vista didattico credo che sia importante. Intanto perché fa capire come il colonialismo, sia pure in modo parziale, ma sia penetrato parecchio in là nella società del dopoguerra. Cioè addirittura 30 anni dopo la fine della guerra ancora c'erano paesi coloniali e paesi colonizzati soprattutto. Ma perché è un discorso di mentalità, di visione complessiva del ruolo autonomo e indipendente che hanno questi paesi, che diventa da questo momento in poi qualcosa di nuovo e di diverso. In gran parte perché sarà concomitante con la spinta economica dei paesi dell'Asia o di alcuni paesi dell'Asia.